ed eccoci qua al momento Francia 4 Australia 1 però è una partita che non era cominciata benissimo per i francesi cioè l'Australia è andata in gol sul contropiede e in vantaggio l'Australia e poi si è fatto male sembra piuttosto seriamente Lucas Hernandez adesso sono sul 4 a 1 2 gol Giroud Rabiot gol e assist Rabiot l'ha pareggiata poi ha fatto l'assist per il 2 a 1 per Giroud poi gol di Mbappé e gol di Giroud ma onestamente l'Australia pochissima cosa naturalmente sono già partiti peana in telecronaca per questa Francia ma a me non so non lo so al momento non mi convince più di tanto non so voi è un evento al quarto di finale con l'Inghilterra sarebbe davvero una bella partita intanto ora hanno recuperato il nuovo palazzo del campo Mbappé Mbappé ma vabbè ora l'Australia davvero non c'è più comunque stata una giornata un po strana questa qui diciamo che la Francia è l'unica che sta rispettando il pronostico al momento oddio anche Polonia Messico 0 a 0 una bellissima partita dove 1 0 a 0 bugiardo Polonia Messico 0 a 0 il pareggio diciamo che poteva anche essere preventivabile e ci stava scappando la seconda sorpresa quella fra Tunisia e Danimarca poi la Danimarca ha sfiorato il gol del finale finita 0 a 0 la partita un po' noiosa dire la verità che si è un po' animata nel finale e cosa ci dice sta seconda giornata che che la Francia c'è però onestamente ha un girone ma non lo so ecco qua il quinto conno ha un girone che onestamente fa un po' ridere l'Australia è quella che onestamente la Danimarca che ho visto oggi è una squadra abbordabilissima per questi qui e secondo me sarà la Tunisia a dargli più più filo da torcere questi qua perché ho notato una cosa ragazzi le squadre cosiddette arabe sia del golfo che nord africane giocano praticamente in casa e attenzione occhio al Marocco domani eh occhio al Marocco domani giocano praticamente in casa giocano praticamente in casa la Tunisia ma anche il Messico quanti cazzo di messicani quanti cazzo di messicani oggi in Qatar forse la Tunisia se non altro perché hanno più o meno la stessa cultura calcistica cioè la Tunisia diciamo la cultura calcistica francofona e quindi un po' li conosce in tanti giocano in Ligan della Tunisia e sicuramente sì magari potranno dare qualche filo da torcere però onestamente l'Australia penso sia poca cosa io penso le perda tutte e tre l'Australia penso la Danimarca onestamente non mi convince non mi convince la Danimarca non lo so sì ha fatto quell'europio là motivata dal dramma di Eriksen a proposito di Eriksen sì ha fatto un tiro e poco altro una Danimarca davvero poca cosa in questo girone qua io penso che la Francia la prossima con la Danimarca io penso che la Francia davvero possa già pensare alla prossima partita e penso che vinca questo girone in assoluta tranquillità il girone dell'Argentina è il pareggio tra Polonia e Messico è positivo per l'Argentina è positivo per l'Argentina perché io penso che col Messico vincano penso che col Messico vincano perché a parte come tradizione sì in genere loro il Messico un po' lo soffrono ma più che altro ma hanno sempre vinto hanno vinto una Coppa America una volta in finale nel 93 col Messico 2 a 1 ai supplementari se non sbaglio hanno vinto ai supplementari un ottavo di finale in Germania nel 2006 quando l'Argentina aveva uno squadrone no che adesso non ce l'abbia però non è una squadra e poi il 3 a 1 in Sudafrica nel 2010 con due grandissimi gol di Tevez il grande rimpianto argentino del 2014 secondo me ci fosse stato Tevez potevano alzarla potevano sollevarla l'Argentina l'Argentina ora a parte tutto io penso che fino alla fine riesca a qualificarsi io penso le può vincere tranquillamente tutte e due sia con Messico che con la Polonia perché onestamente il Messico non ha oddio il Messico sai com'è squadra latinoamericana gli argentini li conoscono sanno come devono affrontarli più o meno e quindi penso che l'Argentina li batta la Polonia oggettivamente è pochissima roba Lewandowski ha anche sbagliato un rigore Lewandowski non si è praticamente visto anche perché secondo me quello non era calcio di rigore e vabbè il terzo calcio di rigore un po' così che viene dato in questo mondiale onestamente sto vedendo degli arbitraggi davvero scarsi non so se siano delle direttive poi sta storia del recupero non mi piace non mi piace sta storia del recupero recuperi lunghissimi cioè ragazzi non vorrei che in Italia si pigli spunto da queste porcherie perché vi dico subito che specialmente quando c'è di mezzo la Juve l'Inter quelle cose là sai le polemiche se hanno bisogno di segnare sai che polemiche dopo e non mi piace sta roba qualcuno oggi nel pomeriggio non ha detto che si va verso il calcio il gioco effettivo amico mio il calcio il calcio cioè 90 minuti di gioco effettivo sarebbero esattamente 4 ore di partita minimo 4-5 ore di partita che cazzo andate raccontando ma veramente la Rai ogni tanto se ne esce con ste primizie poi non so tanto qua la partita è praticamente finita qua c'è solo da decidere se la Francia fa un altro gol qua è solo da vedere se la Francia fa un altro gol domani domani abbiamo domani giocano la Germania col Giappone quella è una partita da vedere per me la Spagna penso che riesca a battere il Costa Rica anche perché ci sono alcuni addirittura del 2014 invecchiati penso che la Spagna vinca facile domani la Germania la Germania deve stare molto attenta al Giappone perché il Giappone è pazzo il Giappone o fallisce completamente o ti diventa una delle sorprese del mondiale quindi attenzione a questo Giappone che per me già l'altra volta era sul 2-0 sul Belgio e poi perse 3-2 agli ottavi attenzione al Giappone e poi ci sta Belgio-Canada onestamente penso che il Belgio faccia un sol boccone dei canadesi e Marocco-Croazia ragazzi attenzione al Marocco domani per me il Marocco è una delle sorprese può essere davvero una delle sorprese io credo sia la più forte delle africane il Marocco le altre sono Marocco Tunisia il Ghana il Senegal e l'altra Marocco-Tunisia-Ghana-Senegal o mi sfugge l'altra sapete è Camerun è Camerun è tornato il Camerun quest'anno ai mondiali ripeto occhio a questo Marocco la Croazia non so come la vedo non la vedo molto bene la Croazia perché non lo so Brozovic reduce dall'infortunio Perisic è sul viale del tramonto lo stesso Modric tutti i giocatori che penso siano la loro ultima apparizione penso onestamente che il meglio l'abbiano dato non c'è più Mandzukic non ci sono altri giocatori che hanno trascinato questa squadra non ha portato Rebic questo ai mondiali secondo me Rebic si arriva alla Croazia io penso che per la Croazia quella col Marocco è una gara a forte rischio domani non lo so intanto quando ha dato di recupero poi sta storia che inizia il recupero e poi dicono quanti minuti dare questo è un'altra sette minuti di recupero ma questi sono scemi sette minuti di recupero cioè ma questi sono fuori come dei balconi cioè mi dice a che cazzo servono sette minuti di recupero sul 4 a 1 a far far gol alla Francia di nuovo no cioè ditemi a che cazzo servono tutti sti minuti di recupero no io veramente spero non scimmiottiamo in Italia con questa porcheria qui perché veramente davvero non riesco a capire davvero non riesco a capire quali direttive abbiamo dato agli arbitri sti qua e mi sa che c'è dietro collina e quando c'è dietro collina succedono sempre cose impreviste vabbè ragazzi iscrivetevi al canale diciamo che tra poco il tempo di fare una docetta video sulla serie C rilassiamoci un po' pensiamo al calcio quello bello